Allora, una delle cose più difficili, secondo me, cioè le cose che io proprio ho difficoltà estrema a fare nella vita, è parlare di me e di quello che mi succede, di quello che sento, di quello che penso. Cioè, letteralmente, non sono una grande... non mi ritengo particolarmente carismatica, sono molto riservata e silenziosa, però comunque penso di avere una buona parlantina, comunque nei video non è che posso stare zitta, quindi di base un minimo penso di essere capace, però nel momento in cui si tratta di parlare di me, della mia sfera personale, o comunque di quello che faccio così, cioè, mi rendo conto di non essere capace, ma, cioè, a parte che nei video, con voi, ma proprio in generale nella vita, io non so farlo, letteralmente le mie sedute dalla psicologa parla più lei che io. E quindi, questo è un motivo per cui io tendenzialmente non spiego mai, perché ogni tanto magari sparisco, non faccio video, tipo, adesso mi sono presa una pausa di un mese e mezzo, che non è una... cioè, dico per rendere una pausa, perché magari per voi è una pausa, ma per me non lo è stato, perché quando sparisco non sono pause, non è che dico, adesso smetto per un po' di fare i video e riprendo quando avrò trovato una mia... un mio equilibrio mentale, no, non è così, le pause avvengono senza che io le programmi, semplicemente a un certo punto mi manca la motivazione e non riesco più a... a mettermi lì al computer, accendere la webcam e scegliere il videogioco da portare... e... perché... non lo so... c'è un motivo per cui vado in terapia... e... però avviene, e avviene ciclicamente, cioè, è proprio una cosa che, se mi seguite da tanti anni, siete... avete notato, forse, i più attenti, che comunque, c'è... è una cosa che avviene spesso, il fatto che io per diverso tempo non faccio video, e l'ho sempre trovata una grossa difficoltà per me, per questo lavoro comunque, cioè, oltre a livello... vabbè, economico soprattutto, perché se non fai video non fai soldi, però comunque anche, insomma, io stessa mi sento molto in colpa quando ho questi periodi, e insomma, non mi fa piacere prendere le pause, cioè, io quando prendo le pause non sono contenta, essenzialmente, però succede, e... e quindi mi dispiace, e non vi do spiegazioni perché, appunto, non sono in grado di darle, nemmeno a me stessa, e quindi non le do nemmeno a voi, però, insomma, faccio questo video per dirvi che... mi dispiace, e mi sento in colpa, e se volevate delle spiegazioni, queste sono la cosa più vicina a una spiegazione che posso darvi, e il video non riguarda solo questo, riguarda anche il fatto che, cioè, vi ringrazio perché penso che non sono molti i creator che possono permettersi delle pause, cioè, tendenzialmente, chi si prende le pause, e poi è sempre difficile, magari, riprendere con il lavoro, per un semplice motivo che, magari, le visualizzazioni poi diminuiscono troppo, non si riesce più ad essere costanti, insomma, ecco, la cosa che mi contraddistingue, o forse è perché semplicemente vi ho abituato così, non lo so, non ho nulla di speciale, è il fatto che ogni volta che torno, tendenzialmente qualcuno che mi guarda i video c'è ancora, e quindi vi ringrazio perché siete stati, siete molto affezionati, è successo di nuovo, per un mese e mezzo, essenzialmente, non ho fatto video, e sono tornata, ho rifatto qualche video, magari le visualizzazioni sono un po' basse, però, insomma, non mi deprimo da questo punto di vista, perché so che, comunque, devo fare i video giusti, e voglio fare le cose giuste, voglio fare i giochi che mi piacciono, e nel momento in cui riprendo bene il ritmo, so che comunque tornano anche le persone a guardarmi, quindi ho fatto due video, se volete andarle a recuperare, recuperateli, e adesso ho intenzione anche di riprendere un pochino in mano la situazione, voglio sforzarmi di far durare meno le pause in cui sparisco, e per questo motivo faccio anche questo video, perché voglio chiedervi che giochi, o che tipo di giochi, di contenuto vorreste che portassi, perché essenzialmente nell'ultimo anno ho cambiato un po' stile di video e di giochi, o forse ho ripreso quello che facevo tanti anni fa, ovvero puro gameplay di giochi raccontati, insomma, di storie, e con pochi tagli, alcuni altri invece giochi rilassanti, insomma, un po' una sorta di comeback su quando facevo la serie delle venti, World Troop Uri di Life is Strange, Beyond Two Souls, e tutte le altre cose, insomma. Quindi, mi piace questo stile e voglio continuare in questo modo. Magari non sempre, però voglio continuare in questo modo. E quindi vi chiedo se c'è qualche gioco che vorreste vedere. Vi dico già, anche per chi mi segue su Instagram, se avete seguito su Instagram, che... mi chiamo Kenoya, basta. Che voglio iniziare Doki Doki Literature Club, che me ne parlano sempre tutti da un sacco di tempo, non ho mai giocato, so più o meno cosa mi aspetta, so che non è una normale novel romantica. E quindi voglio iniziarla, adesso forse la prossima settimana la comincio, faccio proprio la serie. Ci sono anche altri giochi che mi ispirano, mi piacciono e magari porto. Però se volete voi consigliarmi qua sotto nei commenti qualcosa di specifico, che vorreste vedere da me, pensando anche a quello che ho fatto in quest'ultimo periodo, in quest'anno, insomma, e avete un po' capito lo stile che cerco. Tra l'altro a fine anno esce un gioco dai creatori di Life is Strange, che mi ispira molto. Non mi ricordo il nome, però ho visto il trailer e sembra molto carino. Ecco, vi lascerò qualche immagine, così ci siamo capiti di cosa sto parlando. Sembra molto queer, molto stile Life is Strange, nell'ultimo anno... cioè, uscì la fine 2024, quindi quello sicuramente lo voglio portare. E niente, non so se c'è qualche cosa altro da aggiungere, però mi è arrivato McDonald's, quindi adesso vado a mangiare. Sono andata a guardarlo, il gioco si chiama Lost Records, esce a fine 2024, quindi nulla, tenetevi pronti per quel periodo, perché ce lo giochiamo insieme. E anche, ragazzi, niente, grazie ancora per seguirmi, se volete qua sotto nei commenti consigliatemi qualche giochino che vorreste vedere, deve essere bello, deve avere una bella storia, deve essere divertente da giocare, e anche da essere visto, quindi magari non troppo lunghi e pesanti, perché lì, tipo, conosco alcuni che sono davvero carini, però sono un po' troppo lunghi e non posso fare una serie di 30.000 episodi. Quindi nulla, se volete aiutarmi nella ricerca di qualche nuovo contenuto, mi fate piacere, se no aspettate il prossimo video e giochiamo insieme. Ciao a tutti!